Arriva dal Real Madrid, allo stesso agente di Icardi, due indizi per pensare che Pablo Rodriguez sia un predestinato, ci sono tutti. Si è presentato alla stampa salentina con un certo ritardo, causa Covid, che lo ha colpito qualche settimana dietro. È l'ultimo in ordine di tempo, ma non vuole essere l'ultimo, nelle gerarchie di Eugenio Corini ha ripetuto più volte o garra o voglia in spagnolo, ma lui soprattutto vuole continuare a fare gol così come faceva con le giovanili del Real Madrid. Io non considero che non c'è nessuna pressione per venire del Real Madrid, ma sì una certa responsabilità per venire del Real Madrid, ovviamente. Però io vengo qui a fare lo stesso e più che ha fatto il Real Madrid, e come diceva, non mi metto a techo e vengo con molti gani. Il campionato si sembra molto alla seconda edizione di España, e ho visto molti partiti del gruppo, e mi piace molto, ho molto livello, ci sono molto buoni ai jugatori e la verità che sono davvero stupendo con'llà di saltare al campo e darlo a tutto. Grazie a tutti.